Musica Incontriamo Mario Riccio che è il dottore che in qualche modo ha messo fine alla sofferenza di Pier Giorgio Welby, medico anestesista e gli chiediamo essendo un medico se facendo un paragone, partendo con una specie di arcobaleno dal 2006 a oggi, sono passati 13 anni, se nell'ambito della classe medica il dibattito sull'eutanasia è evoluto, si è sviluppato, ci sono delle divisioni, c'è possibilità almeno lì di raggiungere una, almeno lì appunto non nella politica, come vediamo un parere, perché comunque sia la comunità scientifica viene interpellata, un parere che sia maggioritario. Certo, le vicende Welby, Inglaro, Piludu, adesso DJ Fabo hanno innescato un meccanismo che ha portato al dibattito, oggi credo che la classe medica abbia accettato la denuncia alle terapie, anche la legge sulle direttive anticipate è stata abbastanza digerita e se noi ci guardiamo indietro nel 2006 non era così. Oggi il nuovo terreno di battaglia, il nuovo terreno di sfida per la classe medica è assistere il malato e assistere alla sua morte in maniera appunto assistita, cioè l'eutanasia e il suicidio assistito e questo è ancora nettamente rifiutato dalla classe medica. Il Presidente dell'Ordine Nazionale, Dottor Danelli, qualche mese fa addirittura ha rimarcato, ha sottolineato che il codice deontologico fa espresso divieto di dare la morte al paziente anche su sua richiesta e non c'è nessuna situazione medica che abbia preso posizione a favore del suicidio assistito o dell'eutanasia e c'è anche, credo, molta confusione, questo lo sento io andando in gira, dibattiti, si confondono le due metodologie, l'eutanasia e il suicidio assistito. C'è un rifiuto che sta ancora nella parte, diciamo, della più paternalistica del medico, il codice ipocratico, si va ancora a richiamare il codice ipocratico, ora ipocrate è sicuramente una figura importante perché era sicuramente per quel tempo una persona che voleva aiutare chi soffriva, poi se ci riusciva o meno non lo sappiamo, penso poco, forse, come mezzi, però il problema è che la medicina è cambiata e deve cambiare l'atteggiamento del medico nei confronti del paziente. Senta, ma questa resistenza di cui appunto lei ci ha parlato è una resistenza per convinzioni da un punto di vista scientifico, basate, oppure c'è un paternalismo, una questione di coscienza, so che per esempio ci sono delle associazioni di medici che si identificano come cattoliche, associazioni cattoliche, mi fa pensare che venga messo in secondo ordine l'aspetto terapeutico scientifico rispetto a invece un aspetto di coscienza che poi è una visione soltanto personale? Sì, no, onore alla sincerità, l'associazione di medici cattoliche, per l'appunto, l'associazione di medici cattolici italiani ha preso una posizione netta contro, ovviamente. Il problema è unicamente di natura deontologica, nel senso che noi medici, in particolare noi medici delle aree mediterranee, forse nel nord Europa, nel mondo anglosassone differente, abbiamo ancora una visione paternalistica, cioè pensiamo che la persona non appena si ammali, perda la capacità di decidere su se stessa. Abbiamo ancora questa forte convinzione che dobbiamo occuparci del paziente in senso ampio perché non si capisce come mai ammalarsi vuol dire perdere le capacità decisionali su se stesso. La battaglia dura che è stata ai tempi di Welby e di Englaro era sulla semplice rifiutazione della terapia. Oggi combattiamo nel nostro paese, ma in tutti i paesi occidentali, in molti paesi occidentali, la possibilità di darsi la morte e di essere aiutato in trassenso. E questo il medico, ancora intriso di mentalità ipocratica, non lo accetta. Però molti sono i paesi che hanno molte e molte aree geografiche importanti, pensiamo alla California, al Canada, in Europa abbiamo il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, cioè i paesi che sicuramente hanno una tradizione anche religiosa, protestante, quindi hanno meno un concetto di attaccamento alla vita, nel senso della vita terrena. Ecco lei ha citato appunto l'estero, io le chiedo, siccome ho l'idea forse un po' idealista che la scienza non ha una bandiera, non ha una nazione, le informazioni devono in qualche modo viaggiare per migliorare poi le informazioni scientifiche e mediche, ecco che figura ci facciamo quando i medici italiani si confrontano con questo aspetto, approccio paternalistico di cui ha parlato lei, con gli altri medici, qui evidentemente all'estero stanno più avanti rispetto a noi, anche forse a seguito di un dibattito che c'è stato e che è maturato, ecco come ci vedono all'estero su questo aspetto? Guardi, io sono stato per la verità qualche mese fa in Svizzera, a Zurigo, per conoscere il percorso proprio pratico del suicidio assistito. Devo dire che anche in Svizzera non tutti i medici accettano questo da parte del paziente, quindi mi raccontavano che pur esserci una normativa che permette, come sappiamo, la possibilità per il paziente di darsi la morte e lo suicidio assistito, non necessariamente tutta la classe medica, ma questo è anche giusto, cioè posso anche comprenderlo, che ci possa essere un dibattito e ci possa essere anche una resistenza. Qui non si parla di imporre al medico qualcosa, io sono favorevolissimo che se ci fosse una legge sul fine vita, sulla morte medicalmente assistita, ci possa essere anche l'obiezione di coscienza, cioè non possiamo obbligare i medici ad accompagnare il paziente in questo percorso, perché capisco che sia un percorso che potrebbe scontrarsi con la coscienza del medico, però non possiamo per questo vietare a tutti di fare le proprie scelte. Quindi il problema si pone un po' come l'introduzione di gravidanza a suo tempo, qui non si impone l'introduzione di gravidanza ogni donna, ogni gestante, né si impone ogni sanitario, medici, infermieri di collaborare a interrompere una gravidanza, ma dobbiamo darci una legge affinché chi vuole dei pazienti e chi vuole del personale sanitario possa aiutare le persone. Grazie a Mario Riccio. Grazie a Mario Riccio.